Ed eccoci qua, buon venerdì sera a tutti voi, un altro fine settimana, un'altra estrazione domani sera 5 novembre, quindi sabato 5 novembre, terza estrazione nel mese. Il 90 non si fa vedere da due estrazioni, quindi abbiamo visto il 29 ottobre che era l'ultima occasione per il 90 di ottobre, è uscito su Venezia, l'abbiamo vinto anche quello, poi 1 e 1,2 il 90 non si fa vedere. Ma come vi ho già detto nel video precedente, quando ci sono tutti questi 90 che arrivano in continua, così in questo modo qua, è normale che tarda due o tre estrazioni e poi riprende il suo ciclo. Quindi attenzione, non c'è nessuna anomalia, perché guardate la statistica, ve la faccio in continuazione, rammemorare questa cosa, perché tanti dicono eh ma non esce più, eh ma quando uscirà? Ma bisogna vedere sempre anche la statistica, cosa dice? Siamo a due, ricordate queste, queste sono tutti i mesi indietro di quest'anno eh, quindi da gennaio ad oggi, due, cinque, tre, due, uno, cinque. Quindi il massimo ritardo che abbiamo avuto era stato il mese di ottobre, con seri tardi, poi ripreso due e poi via dicendo. Siamo a due, siamo a due, e quindi attenzione il 90 si può far rivedere domani sera, il classico sabato che guarda caso, o esce o se non esce il martedì o giovedì. Quindi domani sera e sabato probabilmente il 90. Vi aggiungo un'altra cosa, con il programma di Roberto Borrelli, la somma 90, chi è che ce l'ha non so, ma penso di voi lo hanno in tanti, questo programmino, questo bel programmone, perché questo dà, guardate che questo sbaglia, difficilmente sbaglia eh, questo capolavoro che Roberto Borrelli aveva fatto, tempo addietro, azzecca i 90 a ruota. Quindi Palermo e Venezia, guardate pochettino, Palermo e Venezia aveva dato il 90, guardate che dopo quanti colpi esce, uno, già un ambo su Venezia è uscito, due, tre, guardate il terzo colpo arriva a Palermo, vedete? Poi va avanti, va avanti, va avanti e poi mi sembra che ha beccato anche quello di Venezia, se non sbaglio, più avanti eh, ci è venuto un po' di colpi di gioco, però vedete Palermo l'ha azzeccato, poi è arrivato quello di Venezia, ma questo era già tardi, a noi ci interessa prima nei primi 3-4 colpi, quindi questa previsione ha già dato, però se noi andiamo indietro, guardate qua, si era formata un'altra condizione, che siamo a 1, 2, 3 e 4 e domani siamo a 5 colpi, guardate qua cosa dà, Torino e Roma, Torino e Roma. Qui ci scappa al 90 eh, o Torino o Roma eh ragazzi, e Palermo, no, si Palermo, o Palermo, Roma Torino ragazzi, occhio, Bari potrebbe essere la secondaria, ma comunque sono sempre quelle quattro ruote, Bari, Palermo, Roma e Torino. Guardate che questo programma di Roberto difficilmente sbaglia eh, qua addirittura vi dà gli abbinamenti, quindi prendete nota che non si sa mai, perché potrebbe succedere di tutto adesso eh, adesso è in carica come la molla, vi ricordate come l'hambata contata? Carica, 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 che quando sta fermo qualche colpo poi esplode. Questo 90, questo pronostico del, della somma 90 di Roberto Borrelli eh, il 90 lo dà su Torino e Roma, guardate che questo, chi ce l'ha, può scrivere qui nei messaggi e constatare che è vero, perché Roberto sapete che sfona dei bei prodotti eh, questo 90 quindi, sono andato a vederlo, poi ovviamente Roberto mi dice vai a vedere, perché guarda che il 90 lo dà veramente su Roma e Torino. Torino, guardate qua, Torino e Roma, Torino e Roma, mi scappa da ridere perché con Roberto si è messo a ridere, guarda poco, cioè questo è un mostro di metodo eh, il 90 lo dà con questi abbinamenti, 14, 41 e 38, ora se avete delle convergenze su Torino e Roma, vedete voi, questo è il pronostico che fa il programma di Roberto, ma è importante vedere che il 90 comunque lo dà su Torino e Roma. Chiudiamo un attimo il programma di Roby e andiamo indietro, guardate qua, eh, guardate qua, attenzione a Palermo, Palermo, guardate che arrivano i due e tre che vanno a scontrarsi con l'87 da Palermo, fanno fulcro, fanno fulcro a Palermo. Palermo, Roma, un'altra somma a Roma, 12, 78, Palermo, Torino, Palermo, Torino, queste tre ruote ragazzi sono le primarie. Bari, quello Bari arriverà, ma resta nella classifica, perché se noi andiamo indietro, ricominciamo tutto da capo, eh, ovvio perché vi devo far vedere tutto. Allora, questo è regalato il Firenze, ok? Prima step, allora, questo del Bari del 29 settembre è regalato il Firenze. Poi, si ripropone quello di Genova-Venezia e ha regalato quello di Venezia, quindi Firenze e Venezia hanno dato, guardate qua come si costruisce tutto. Poi ritorna su Firenze e Roma, quindi se Firenze ha dato, Roma, vedete? Poi, la somma, scusate, sembra una malta contata, quindi uno va a Cagliari e uno va a Torino, Torino, scusate, Cagliari è già uscito, rimane Torino. Tenaglia, Tenaglia, Cagliari ha dato, questo gli va a Torino, occhio! E poi abbiamo avuto un altro, Firenze, che andava su Venezia e Bari. Quindi, Venezia ha già dato, Bari, ecco perché le ruote sono sempre quattro. E poi, di nuovo, Cagliari e Torino, quindi Torino, attenzione, Torino, 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 Torino. E poi il Palermo-Genova, abbiamo fatto le differenze con la frequenza, e poi, ovvio che ci sono le somme, queste bellissime somme su Palermo e Torino, e Roma, che prende una e una due consecutivamente, e poi, ovvio, Palermo-Torino, quindi risultato della classifica che rimarrà sempre questo, mi raccomando, classifica integrale che rimarrà sempre questa. Eccola qui, bella bella, Bari, Palermo-Roma-Torino rimangono sempre queste, ma Palermo-Roma e Torino hanno le somme 90. C'è addirittura il programmino, il programma, non perlomeno, il programma di Roby, somma 90, che da proprio Palermo-Roma-Torino, sì, Roma-Torino, se non sbaglio. Ragazzi, volete volare, queste sono le quattro ruote di importanza, ma vi ripeto, Palermo-Roma-Torino dovrebbero essere le principali. Avete lo schema, ve l'ho fatto venire la nausea, perché lo sapete ormai a memoria. Quindi, le posizioni più forti sono quelle tracciate col più, l'estrato semplice per l'amante è da lambata secca, micidiale, che chi vuol puntare su queste quattro ruote sa benissimo come giocare. E quindi, attenzione a questo schema, questo è il 90. Ritorniamo adesso, dopo che vi ho fatto vedere tutti i rischi, al 26, 26, come è nella previsione che ho dato su Whatsapp. È lo stesso gioco, è lo stesso metodo di gioco, c'è un'ambo a parte, con l'ambo a un betto e poi ci sono i suoi con questi, ma fate anche con questo, quindi 25, 26, con questi. Fate sempre la lunghetta con l'ambo al terno, un po' di quaterna e un po' di cinguine, ma più sull'ambo al terno se dovete fare la lunghetta. Questo mi raccomando, ambo, ambetto, sempre Firenze-Roma. Ho detto quest'oggi nel gruppo che su Roma si è sviluppata un'altra condizione che dà di nuovo il 26, il 62 e l'80. Quindi abbiamo visto ieri il 26, abbiamo visto l'86, ma adesso si mette anche l'80. Non posso farvi vedere il nuovo segreto di questa nuova condizione, perché questa ovviamente è una chicca delle chicche che probabilmente in futuro metterò. non lo so, però questo vi dico già che fra Roma e Firenze si materializzerà o il 26 o il 62 di nuovo, con l'80, ma preferibilmente penso ormai il 26, 80, 85, 86. Mi raccomando, questi sono gli abbinamenti, ve l'ho detto, non bisogna avere fretta, diamogli tempo. Se uscirà poi un ambetto con questo, o un ambo, comunque poi si molla, si molla, ma andiamo avanti per i 5, 6, 7 colpi. Basta, poi più di lì la chiuderemo. Vi voglio ricordare che domani siamo a 5 colpi. 5 colpi sia per quella data su WhatsApp, lo fate partire a tempo, e sia questa su YouTube. Così almeno, una volta che si cambia, si cambiano tutte e due, se non dovesse riuscire. Ma io penso che una delle due, se non tutte e due, possono dare alla grande. Quindi questo 26, abbiamo visto la scaletta, andiamo a rivederla, perché è giusto farvela rivedere. Specialmente Roma, guardate Roma, ve lo faccio rivedere. 600 estrazioni, anzi no, 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 abbiamo detto 300 estrazioni, perché si vede proprio la scaletta nelle 300 estrazioni. Allora, 26 così, guardate la scaletta, bellissima scaletta. Questa, come dice Roberto, quando galleggiano così sono uno spettacolo. Poi, l'86, di nuovo un'altra scaletta. Quando è così, siamo a un buon pronostico, direi ottimo pronostico. Quindi, l'86, il 26, l'80, l'80, perché c'è una condizione che riporta il 26, il 62 e il 80, anche su Firenze e Roma. E quindi, attenzione, si riaggancia un'altra occasione per Firenze e Roma. Questa è la previsione da portare avanti. Volere volare, chi la vorrà proseguire senza obbligare nessuno. Questa è la previsione ancora per due, tre colpi. Arriveremo a 7, forse domani finisce tutto, si risolverà con un ambo secco, un terno in cinquina, chi lo sa. Oppure un ambetto, oppure un ambo secco, 25-26. Domani sera vedremo. Se non vi dico niente, si continuerà ancora due, tre colpi. Va bene? Quindi, questo è tutto, mi raccomando. La classifica ormai la sapete a schifo. E poi, questa è la condizione per domani sera. Mi raccomando, buona giocata e moderazione. Mo-de-ra-zione. Unica previsione su YouTube, unica previsione su WhatsApp, classifica 90. Non sto dando altro. Buon. Un abbraccio a voi tutti, buon fine settimana, passatevela bene in compagnia. E serenamente, soprattutto. Ciao da Marcus, agli prossimi video. Mi raccomando chi è nuovo, iscrizione, campanellina, attivazione per i nuovi contenuti video. Ok? Tanto è gratuito. A domani. Ciao da Marcus. Ciao. Ciao. Ciao.